ed eccolo qui il benedetto quest'anno niente gare perché non si fanno gare caro commissario però oggi lo chiamiamo il benedetto scalzo eccolo qua notate i dettagli scalzo 45 un carrossiere scalzo misura 45 puoi andare benedetto ma ti metto vicino al video dei giulio ecco allora mettiamo a te va bene anche se sei contro luce ma ti mettiamo lo stesso ok guarda guarda che ne potete via ma è africano questo ma tutti i lati che avevano ma che si cascano come tutte le persone come no invece che ti vado ma che riparo domani a chi ne provo tutti tutti le porto sono tutti quattro tre ok e figlio tra qualunque porti e quando si prende l'africa più volte va bene a posto se faccio scandrati sopra youtube va bene ciao quelli venite tutti ieri ciao Ciao